L'apertura del fiore di loto. Il mio corpo è come un bellissimo fiore di loto. Lo visualizzo, questo delicato fiore di loto, e lo guardo, mentre i petali si aprono gentilmente. Ogni petalo, ogni strato gradualmente si apre, si distende verso l'esterno. I petali morbidi si aprono con facilità, come io mi sto dilatando. In questo profondo stato di rilassamento immagino il mio corpo che si rilassa, che diventa morbido e che si apre. Visualizzo il mio bambino scendere verso il canale del parto e poi verso la vagina. Il mio corpo gentilmente si apre e si distende. Io mi rilasso e respiro e mi concentro sul respiro. Prendo aria dal naso e quando espiro lo faccio gentilmente dalla bocca, come soffiare una candelina. E mentre soffio, mentre espiro, guardo verso l'addome, verso il mio utero, verso il mio bambino. Il mio corpo e il mio bambino lavorano insieme. Perché questo è quello che fanno. Sanno esattamente cosa fare. E mi fido del mio corpo e mi fido del mio bambino. E lascio andare. questo viaggio. Il viaggio che fa il mio bambino. Giù verso il canale del parto. Lo visualizzo. Visualizzo il mio bambino. Ha i tessuti rosei. Sta bene. E piano piano distende il cammino. Distende e si apre. Come i petali del fiore di loto. I petali sono soffici. E abbracciano teneramente il mio bambino. La testa del mio bambino fa pressione sul canale del parto. Fa pressione sul colo dell'utero. Piano piano mi apro. Piano piano lui discende. La vagina si distende. Il perineo si distende. Gradualmente e completamente. Con un respiro gentile. Il perineo si distende. e la testa del mio bambino emerge. Gradualmente. Con facilità. Ogni volta che sento la parola fiore di loto. O visualizzo il fiore di loto aprirsi. Trovo me stessa. Mi immagino. E sono più rilassata. Piano piano entro in questo rilassamento profondo. E il mio corpo risponde lasciando andare. Rilassandosi. E prendosi. Lascia andare le spalle. Il collo. E come un fiore di loto delicato. E si apre gentilmente e facilmente. Io rilasso l'intera regione pelvica. E tutti i muscoli del pavimento pelvico. Li rilasso. Li faccio distendere. E sento me stessa trasportarmi da questo stato rilassato. In cui mi fido. Mi fido del mio corpo e del mio bambino che sanno esattamente cosa fare. E con ogni respiro che prendo. Il mio corpo diventa più morbido e si apre. E con ogni respiro che prendo. Il mio corpo si apre e diventa più morbido. e con un altro respiro. E con un altro respiro permetto al mio corpo di aprirsi e di diventare più morbido. I petali del fiore di loto si aprono. Il mio bambino gentilmente e facilmente viene al mondo viene alla luce. E lo accolgo. Lo abbraccio. Lo tengo tra le mie braccia.